Sayu più Ezio uguale sazio Sono sazio, ma non di sangue Ecco qui E siamo subito su Elden Ring Ah no, è un passaggio segreto Fichissimo Guardate la statua È identica a una di quelle a Villa Auditore Uh, uh È il primo pezzo per avere l'armatura finale Sì, sì, è lui Uh, uh, uh Cosa trova? La statuina Certo, beh, è un po' scomodo A portarsela dietro, eh L'infra-chiappa è spazioso come ben sai Eh, quello di Ezio evidentemente è abbastanza Contenere un doblone grande come una faccia